Riesci a sentire il rumore dell'acqua ad essere qui, in questo momento presente? Ecco, si riesce a cogliere... Presto! ... Esatto, si, 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 si! Ma sai cosa Davide, perché lui è partito senza la mia supervisione, senza la mia supervisione, quindi... ...è partito con una faccola per il finale per fare il video. ... 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